Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare cosa ho ricevuto da un'azienda di accessori o meglio di borse. Mi sto riferendo a questa azienda LASNV, ve lo leggo così. Prima di iniziare come sempre vi ricordo se vi fa piacere di supportare il mio canale. Ora iniziamo subito così vi mostro quali articoli ho voluto prendere col budget che mi è stato dato. Allora sono stata contentissima di collaborare con questo sito LASNV, comunque ve lo lascerò qua sotto e in descrizione vi lascerò il link dei due oggetti o meglio delle due borse che ho voluto scegliere io con il mio budget. Per chi mi conosce sa che io amo le borse, la mia passione sono i gioielli e le borse ma per chi non mi conoscesse ed è il primo video che sta guardando sul mio canale per me è stato un piacere poter scegliere tra tante borse. Avendo io una collezione molto molto grande ho voluto ricercare due modelli che mancavano nella mia collezione. Ne ho preso uno per me e uno per mia figlia. Incominciamo dal pezzo forte che senz'altro avrete visto dalla miniatura. Mi sto riferendo a questo. Praticamente si parla di una borsa in senz'altro plastica perché non parliamo di pelle. Questa parte plastica dura si può portare sia a mano che con la sua tracolla che è questa che riprende il poliuretano quindi il PU che non è pelle ma è plastica, pelle sintetica e ha poi la catenella dove puoi attaccare la borsa nei lati. Magari qua al lato vi metterò un mini video dove la indosserò con la tracolla. Ovviamente voi lo sapete seguirà più avanti un nuovo zime bag perché sono abituata a presentarvi le borse nel mio canale sia che mi vengono regalate o acquistate sempre anche tramite un nuovo zime bag per farvi vedere esattamente cosa ci può stare all'interno. Nel frattempo vi lascio qua sotto il mio codice sconto col quale potrete avere il 5% di sconto. Si può utilizzare anche con altre tipologie di sconti presenti in questo sito. Quindi facendo degli acquisti pari o superiori a 50 dollari verranno detrati 6 dollari e per di più potrete utilizzare il mio codice sconto che è cremi 5 off e avrete un ulteriore 5% di sconto dal prezzo già scontato dal sito. Comunque prima di iniziare di mostrarvi esattamente i due articoli ci tenevo a fare una precisazione. Per quanto riguarda le due borse che ho scelto la prima quindi per ora mi riferisco alla prima mi è arrivata nel sacchettino che è questo. Quando ho aperto il pacco questa che praticamente dove prevale la plastica odorava. Ve lo dico perché voi lo sapete sono molto trasparente nei miei video mi dispiacerebbe consigliarvi un prodotto e poi riceverlo e avere una sorpresa del genere. Mi è arrivato ieri sera l'ho lasciato tutta la notte all'aperto e adesso ne ha pochissimo è semplicemente l'odore della plastica. Sono contenta perché appena ho aperto il pacco pensavo non andasse via l'odore invece ne ha pochissimo. Questo ve lo dico perché lo sapete a me le cose che hanno odori sgradevoli non mi piace tanto utilizzarle quindi sono contenta che non l'ho lasciata neanche 24 ore perché il pacco mi è arrivato intorno alle 5 del pomeriggio e io l'ho ritirata stamattina l'avevo messa nello stendino l'ho ritirata stamattina alle 7 quindi come borsa mi piace tanto quindi sono contentissima di aver scelto lei ovviamente questo è il mio colore ci sta molto bene anche con le mie scarpe timberland quindi sono contentissima di aver scelto questo questa tonalità qua anche per quanto riguarda la seconda che poi ha scelto mia figlia siamo rimasti nella stessa tonalità però ho voluto portare e scegliere due tipologie di borse che nella mia collezione mancavano perché io le voglio realmente utilizzare sono contentissima perché appena l'ho vista mi è piaciuta subito secondo me è una borsa che per chi ha tante borse è bello avere nella propria collezione ha quindi la sua tracolla in questo momento la state vedendo indossata senza tracolla vi metterò anche un'immagine dove le indosserò con la sua tracolla quindi seguirà prestissimo un uozi my bag tenete presente che vi lascerò sotto il link in descrizione questo modello viene fatto solo ovviamente in questa tonalità mi sembra di aver visto che ci sono delle borse anche da calcio in due tonalità comunque ci sono tantissime tipologie di borse per tutti i gusti e con costi veramente bassissimi passiamo al secondo modello che mi è sempre arrivato nella sua dust bag quindi entrambe hanno la dust bag e il secondo modello è questo il materiale è uguale in parte c'è la parte che cornicia la cerniera è identica però per quanto riguarda l'altro no mi ricorda una pallina da tennis come materiale questa veniva fatta in tre colorazioni una più bella dell'altra infatti all'inizio ero dubbiosa se prendermi anch'io questa piccolina da utilizzare come portamonete per rendere un outfit un po' più modaiolo alla fine mi piaceva tantissimo oltre a questa tonalità quella rosso fragola e poi c'era anche nera però ho voluto portare due borse due tipologie di borse differenti per dare la possibilità anche a voi di vedere due borse che non si trovano tantissimo cioè per portare una borsa di una tipologia del genere bisogna essere un po stravaganti e io sono stravagante quindi ho visto questa opportunità per portarvi due modelli differenti perché ho visto che questo marchio l'hanno portato diverse persone qua su youtube ne approfitto per salutare la mia amica ela mi sembra che anche lei avesse collaborato all'incirca un mesetto fa non mi ricordo con questo marchio lei ha preso una tot molto bella e un'altra in ecopelle non mi ricordo se ha preso due o tre modelli quella che mi è piaciuta tantissimo è la tot comunque se siete curiosi potete andare a vedere anche il suo canale e ha fatto un video dedicato a questo marchio quindi vi consiglio di andare a vedere perché anche lei ha scelto tre borse molto carine comunque questa è la seconda l'ho presa per mia figlia all'interno la cerniera apre bene e all'interno ha la sua catenella in questo caso la catenella è semplice tutta dorata però eventualmente potrei anche farle utilizzare questa così non le dà noia nella spalla anche se qui all'interno per pesare dovresti mettere tantissime monete comunque potrei anche prestarle questa tracolla hanno lo stesso identico colore lo sapete che sono pignola quindi quindi questo è il secondo prodotto che ho preso vi metterò la foto indossata anche di questa io sono contentissima di questa collaborazione sinceramente non volete raggiungere 50 dollari perché comunque se andate a prendere per esempio questi due modellini non arrivate neanche alla metà penso che entrambi costino sui 17 dollari quindi non è che dovete per forza arrivare a 50 dollari ma se già prendete una borsa tipo la tot quella che fa vedere la nel suo canale lei la presa nera c'è molto bella anche in jeans in denim mi sembra che ci sia anche in diverse colorazioni quelle mi sembra che costino intorno ai 28 euro quindi già prendendo due borse di quella tipologia di quella fascia di prezzo avete la possibilità di avere uno sconto di 6 dollari e un 5 per cento con il mio referral code oppure con il referral code di ela basta quindi questo è ciò che io ho voluto scegliere spero di avervi fatto cosa gradita nell'aver preso due borse un po più modaiole un po diverse dalle solite ho dato uno sguardo dopo che le ordinate mi sono resa conto che erano comunque diverse ed ero contenta per dare la possibilità a voi di portare sul mio canale una tipologia di borse un po differente ovviamente l'ho fatto perché di borse ne ho tantissime e quindi anche a me faceva piacere portare un qualcosa di diverso e soprattutto che avrei potuto utilizzare con la mia stravaganza e questi mi danno modo di creare degli outfit veramente particolari per dirvi la velocità nelle spedizioni mi hanno risposto velocissima tutti i messaggi con i quali abbiamo comunicato scelto le borse mandato i diversi link io le ho scelte il giorno prima di partire a bologna quindi io a bologna sono partita il 10 e le ho scelte mi sembra il 9 mi sono arrivate ieri considerando che non arrivano da vicino secondo me sono dei tempi abbastanza giusti vi mandano comunque anche la tracciabilità quindi voi avete la possibilità di seguire esattamente la spedizione quindi la comunicazione con l'azienda è stata ottima e anche questa non è da dare per scontato quindi il mio video termina qua io spero come sempre di avervi tenuto compagnia fatemi sapere cosa ne pensate dei modelli che ho voluto scegliere quindi di entrambi se avete in mente o di farvi un regalo o di fare un regalo secondo me ecco non mi ricordo se la spedizione sia compresa e mi ricordo mi accerto di questo e ve lo scrivo sotto in descrizione comunque sia ne vale la pena perché i costi sono veramente bassi il mio video termina realmente qui per quanto riguarda il mio outfit ve lo mostro qua lato mi è piaciuto tantissimo anche l'idea di questa miniatura che ho voluto fare e quindi di simulare un lancio al canestro non si vede nella foto il terzo tempo però ho fatto un terzo tempo ed ero pronta per tirare a canestro mi piace tantissimo la trovo una borsa simpatica e rifinita bene per il costo che ha mi sembra che questa borsa costi intorno agli 11 dollari poi comunque vi lascio il link cerco di non dimenticarmene e vi ricordo comunque di mettere il mio codice sconto che non ha scadenza per quanto riguarda gli accessori oggi sono andata a giocare basket quindi ho levato il braccialetto di raspini non ho niente ho tenuto questo mio anello ovviamente scherzo anche se io in passato da ragazzina giocavo a basket ed ero in una squadra però ormai posso giusto tirare a canestro non sono in grado di fare una partita per quanto riguarda gli orecchini o questi cerchietti diverse misurazioni ma li ho da quando sono partita in moto idem per quanto riguarda questo lato qua ho la mia solita piastrina personalizzata e nient'altro qui i soliti bracciali avevo tolto dei braccialetti quando sono partita in moto e non li ho ancora rimessi quindi la tinta labbra è quella di barbie non ve la sto né a prendere né a dirvi il codice perché mi sembra che il codice non ci sia scritto e il profumo oggi ho voluto utilizzare cialù che avevo acquistato alla lidl sono 75 ml di prodotto un prezzo sinceramente ottimo io a questo punto vi saluto vi auguro una buona serata e vi do appuntamento sempre se Dio vuole a un mio prossimo video e cioè a domenica buona serata a tutti